Quando un uomo come Cofferati o un giovane dirigente come Civati lasciano il Partito Democratico o quando un deputato, un esponente apprezzato del nostro partito come Stefano Fassina rifletta a voce alta sulla possibilità o l'opportunità o la necessità di farlo ecco io penso che la replica non può essere, è un problema suo, è un problema loro vorrei che rimanessero ma se se ne vanno è un problema loro io continuo a pensare che soprattutto se sei il leader di quel partito è un problema tuo comunque anche un problema tuo ma certamente è un problema nostro